Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con pomodoro, panna e peperoncino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, salsa di pomodoro, panna da cucina, vodka, aglio, peperoncino, olio evo, sale, pepe, prezzemolo e parmigiano grattugiato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio, l'aglio e il peperoncino ed azionare il bimbi per 4 minuti 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale, aggiungere la vodka ed azionare il bimbi per un minuto, 100 gradi, velocità 1 senza misurino. Aggiungere la salsa di pomodoro, sale, il pepe e cuocere per 20 minuti, 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Aggiungere la panna ed azionare il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, velocità 2. La salsa è pronta, condire la pasta, spolverizzare con parmigiano e prezzemolo e servire. Pasta con pomodoro, panna e peperoncino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!